ciao nel video di oggi parlo di shock culturali legati al cibo in francia allora io avevo già fatto un altro video in cui proprio dico che uno dei vantaggi della vita in francia è la gastronomia l'approccio al cibo la convivialità la qualità degli alimenti l'importanza che viene data ai pasti quindi in generale io direi che per un italiano non è poi così traumatico vivere in francia dal punto di vista culinario però qualche piccolo trauma c'è sempre qualche sorpresa qualche cosa che non ci saremmo mai aspettati perché ovviamente quando abbiamo sempre vissuto nel nostro paese immaginiamo che quello sia lo standard della regola invece da altre parti si fa diversamente per il cibo come per altri aspetti che cosa mi ha sconvolta del cibo in francia ci ho pensato in queste giornate invernali e la prima cosa che mi è venuta in mente riguarda la cioccolata calda la cioccolata calda in italia è una cosa densa per natura per natura è densa in italia la cioccolata in francia la cioccolata calda e latte liquido quindi con cacao di vario tipo di varia qualità nel senso che può essere più o meno buono però io l'ho sempre trovata liquida e questa cosa mi aveva un po sconvolta soprattutto quando si ha freddo inverno e si ha voglia di questa cosa densa che è quasi più cioè tende quasi più al dessert alla fine rispetto a essere una bevanda quando è densa è quasi quasi tendente al budino e noi in francia è liquida tra l'altro io lo sapevo già che ad esempio in svizzera era liquida la cioccolata quindi non so che cosa mi avesse fatto pensare che in francia avrei trovato una cioccolata densa comunque ho superato questo trauma seconda cosa che è diversa in francia riguarda la maionese come vedete sono una che mangia molto sano e che mangia solo verdure quasi vegana no era la seconda cosa riguarda la maionese la maionese in francia a meno di non andare proprio a cercarla con il lanternino però in media se ci sono dieci tipi di maionese al supermercato diciamo che 9 e mezzo saranno maionese alla mutarde la mutarde è la senape ho verificato quale fosse la differenza tra mutarde e mostarda cioè la mutarde è la senape è questa salsa ottenuta a partire da un fiore il fiore della senape mentre la mostarda italiana anch'essa contiene senape però contiene hanno entrambe questo sapore piccante però quella italiana contiene senape e frutta allora bene una nell'altra piacciono particolarmente e la maionese in francia ha questa questa aggiunta di senape e anche questo mi aveva un po lasciata così perché cercavo un sapore di maionese tra virgolette normale nel senso senza senape non dico che non si trovi però veramente va cercata e infatti ho tante volte se proprio avevo lo sfizio me la portavo dall'italia dopo i miei viaggi l'altra cosa che stupisce in francia che riguarda un po tutti i pasti è che l'insalata non è un contorno ma l'insalata è un antre cioè l'insalata è una cosa che si mangia a inizio pasto sappiamo anche che in francia non c'è il primo e secondo questo forse lo sapevo già prima di venire ma c'è un concetto di antre epla e poi eventualmente dessert l'antre è di solito un insalata o qualcosa di più leggero che si mangia per dare inizio al pasto ed è poi seguito da un plà e nel plà abbiamo tre elementi di solito un feculon che è un carboidrato quindi può essere una patata un riso una pasta un couscous un grano un farro ok un carboidrato una verdura e una proteina che può essere carne pesce uova formaggio insomma dipende da cosa uno preferisce quindi c'è questo plà con queste tre cose e in questo plà con queste tre cose può capitare di vedere la classica pasta scotta e scondita che viene messa a fianco di tutto il resto a fianco della bistecca e della verdura come accompagnamento quindi non è un piatto a sé a meno che non si vada ovviamente in un ristorante italiano dove si può prendere un piatto di pasta ben condita questa cosa sì mi ha un po' stupita un po' la sapevo e così in molti paesi europei alla fine penso che il concetto di primo e secondo sia tipicamente italiano alla fine io ho preso questa abitudine ogni tanto dell'entrée a base di insalata e anche di fare il piatto con le tre cose anche se con la pasta non ce la faccio soprattutto con la pasta scotta di cui alcuni francesi sono dei grandi esperti cioè ad esempio il mio compagno fa questa pasta scotta poi la scuola nello scuola passa quando la scuola è talmente appiccicosa che questo diventa una cupola una specie di tortino di pasta che si può tagliare a fette e quindi anche il condimento non ha nessun senso perché è una specie di tutt'uno però sì diciamo che si no questa non ce la faccio proprio a mangiarla è più forte di me però non mangiare il riso con a fianco la bistecca questo questo lo trovo anche pratico alla fine l'altra cosa che è un po' complicata in francia per noi italiani è il caffè nel senso che trovare al bar un qualcosa di simile espresso all'italiana può essere difficile non è impossibile ma non è neanche facile è sempre un po' lungo il caffè e a volte il sapore è indecente ma devo dire che negli anni ho riscontrato ci sono due possibilità ho riscontrato che la qualità media del caffè in francia è migliorata negli ultimi dieci anni e che quindi è più facile trovare un caffè decente secondo gli standard italiani oppure probabilmente ho un mix di entrambe le cose mi sono abituata io a bere il caffè francese e me lo sono fatto andare bene anche questa è una cosa che ricorre molto nelle domande dei gruppi facebook dove si trova il caffè decente a parigi a leone a londra è normale chiederselo un'ultima cosa riguarda gli aperitivi e l'approccio al bere e al mangiare in generale cioè a me sembra che il concetto di aperitivo dove si mangia in abbondanza sia più italiano che francese e che in francia se ti invitano un aperitivo è meglio stare attenti e mangiare qualcosina prima perché in genere l'alcol abbonda ma il cibo magari sono due noccioline oppure qualche fettina di pane con delle salse e tu rimani lì alla fine ti aspettavi di mangiare un po di più e quindi ti rimani deluso questa differenza sugli aperitivi sì l'ho notata e ho notato anche che veramente l'abbondanza di alcol forse in francia è un elemento ancora più più importante che in italia io anche uscendo tra colleghi ho notato che in estate ad esempio era normale bere una bottiglia di rosea a testa cosa che per me è veramente tanto bere una bottiglia di vino da sola anche se rose e che è fresco voglio dire però per loro era normale ed era un'abitudine anche senza mangiare non avevano particolarmente fame mentre io dopo un po' avevo fame e avevo bisogno di accompagnare questo aperitivo con del cibo insomma non me ne vengono in mente altre ovviamente c'è anche il discorso della ricerca eventuale di prodotti italiani in francia che anche questa è una domanda che ricorre moltissimo tra gli italiani in francia e all'estero in generale cioè dove trovo questo dove trovo quello dove trovo i pan di stelle anche su questo a me sembra che negli anni queste cose si trovano sempre di più o forse sono io che mi sono che mi sono abituata a non trovarle o a trovarle raramente però si viene abbastanza naturale ad esempio chiedersi perché non esistono molto in francia i biscotti per la colazione come li abbiamo in italia nei sacchettoni cioè non esiste proprio il concetto del biscotto un po un po secco da usare per la colazione ci sono fette biscottate o biscotti molto più pesanti che tendono quasi al pasticcino cioè il biscotto molto burroso buonissimo nelle scatoline rettangolari quindi non c'è il saccone di biscotti del mulino bianco a meno che non ci siano offerte specifiche con prodotti italiani in quel supermercato o a meno che non si vada a cercarli in negozi di prodotti italiani questi erano un po i miei traumi culinari ma ripeto alla fine in francia si mangia benissimo quindi se avete dei dubbi sul trasferimento in francia in base al cibo non preoccupatevi perché davvero qui si possono scoprire tantissimi cibi piatti buoni e pasticceria e pane ancora ancora di più vi saluto ciao ciao